60 Seconds del lunedì sera, amici, ieri abbiamo parlato di Rafa Radal, ci siamo occupati in questo spazio di un campione incredibile, fenomenale, soprattutto di quel messaggio d'entusiasmo, voglia di esserci sempre, di trovare sempre qualcosina in più in se stesso che riesce a trasferire a noi tutti questo incredibile personaggio dello sport, che insieme a Roger Federer e a Nole Diokovic ci ha regalato un'era che si sia o non si sia appassionati di tennis, semplicemente irripetibile. Domani sulla Ragione scaricate l'app, questa sera potrete già leggere o su www.laragione.eu gratuitamente con la sola registrazione troverete un pezzo bellissimo, magnifico, di Stefano Meloccaro dedicato proprio a Rafa Radal. E oggi, a proposito di giornalisti e di grandi esempi, e di grandi giornalisti appunto, se n'è andato Gianni Clerici. Proprio nei giorni in cui abbiamo così tanto parlato di tennis, guardate gli scherzi del destino, Gianni Clerici, si definiva uno scriba, è stato un autore, oltre che uno scrittore, fenomenale. Innamorato perso di questo sport magnifico e terribile. Mi permetto di riportare solo una modesta immagine. Roma internazionali, ho avuto la fortuna per tanti anni e l'opportunità di seguirli. Lui c'era sempre, Roma anche nelle giornate più calde, lui in tribuna stampa sotto un sole cocente, il sole cocente di Roma, che può essere veramente caldo già a maggio, perennemente impeccabile in giacca e cravatta. Mentre noi, come dire, colleghi più giovani, un po' di sbraco, lo vivevamo. Direte voi, vabbè, uomo ad altri tempi. Sì, ma non solo. Ti trasferiva la dignità della professione. Non solo per la cravatta, è evidente. Per il modo di porsi, la capacità di ascoltare, di rivolgere un cenno di saluto, di prestare un secondo d'ascolto a un ragazzo che magari cominciava appena la propria avventura. Ti trasferiva il senso del grande di questo mestiere, dell'esempio. E alla fine, quando possiamo incrociare, anche fugacemente, uno splendido esempio, saremo più ricchi. Grande Gianni Clesci.